La mia è più che altro una curiosità, lei che usa i mani a cali nel preparare tutto, anche nei dettagli, come mai non ha lo scudetto sulla giacca che indossa oggi? Just a curiosity, you are very detailed in preparing your matches, how come you don't have the Italian flag, the Italian scudetto on your... Someone stole it. Voi l'Inter? Che è il più importante? Inter è il più importante. Poi per prima volta che non l'ho mai fatto, lo faccio. I... I kiss. Has been stolen, probabilmente. Buonasera, lei pensa guardare... Patrick! Non Patrick sta volta. Lei pensa guardare la partita del Bordeaux questa sera? Perché si parla molto di Laurent Blanc per forcer il futuro l'anno prossimo? Sì, dovrai guardare il match di Bordeaux oggi? Perché ovviamente stiamo parlando, sì, la presa parla di Blanc come coach futuro dell'Inter. Se Blanc è il prossimo allenatore dell'Inter, è Blanc che deve guardare l'Inter. Non io che devo guardare il Bordeaux. Io oggi guardo Benfica-Herta-Berlin e non voglio essere né allenatore dell'Inter, del Benfica né allenatore dell'Herta. Però, Benfica-Herta-Berlin.